Cupello 21 novembre, siamo nell'azienda Peschetola dove la titolare, la signora Morena, ci illustra i prodotti esposti in questo showroom. Nel nostro showroom potete trovare dalla gastronomia più ricercata alla gastronomia più tradizionale, abbiamo prosciutto patanegra, prosciutto san daniele, prosciutto di parma, la gastronomia più tradizionale, la ventricina che noi produciamo. Non dimentichiamo formaggio parmigiano reggiano, grana padano, formaggio di fossa, formaggi ovviamente francesi, formaggi italiani, formaggi del mondo. Continuiamo poi ovviamente con vini, vini d'Europa, vini internazionali, vini italiani, vini locali, quindi vini di tutte le nazionalità. E poi abbiamo la famosa pasta di Gragnano, pasta abruzzese, pasta cocco, abbiamo diverse varietà di pasta per poi arrivare ai dolci. Anche qua abbiamo dolci internazionali provenienti da tutto il mondo, biscotti particolari, prelibatezze di cioccolati vari, di grande pregiatezza. Per concludere abbiamo tutto quello che riguarda il mondo delle bollicine, champagne, spumanti con metodo classico. E con le bollicine ovviamente non ci possiamo dimenticare, è obbligatorio l'accostamento con dell'ottimo salmone, salmone anche qua abbiamo salmone selvaggio, oltre che salmone scozzese. E tutto questo ovviamente con una veste natalizia, con una veste raffinata, elegante, abbiamo dalle confezioni più particolari, borse, alle confezioni più tradizionali, cesti in legno. I nostri regali sono classici, originali, ma anche se vogliamo fashion, abbiamo dalla linea più classica con i colori del crema, del marrone, alla linea più nuova, più giovanile, più fresca con i colori del rosa. Quindi un Natale in rosa, ma anche se vogliamo un Natale in rosso, classico. I nostri regali ovviamente appagano il palato, ma appagano anche la vista, perché possiamo affiancare dei bellissimi oggetti, oggetti di vario genere, natalizi e non, un ricordo che dura nel tempo. Per un regalo che dobbiamo ricordare, per un regalo che deve sorprendere e per un regalo che non dimenticheremo mai.